Amici del software libero open source, benvenuti e bentornati in questa 116esima puntata del podcast di Marcos Box. Rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcos Box a commentare con voi le principali notizie nel mondo del software libero open source. Apriamo questa puntata tornando nuovamente a parlare di Linux Mint, praticamente rialgacciamo il discorso del precedente episodio. Perché torniamo a parlare di Linux Mint? Beh, perché Clement Refebri, il padrone di Linux Mint, ha annunciato la disponibilità dell'immagine ISO Edge di Linux Mint 20.3. Che cos'è questa ISO Edge? È una edizione speciale di Linux Mint pensata per le persone i cui hardware è troppo nuovo per essere avviato con il kernel 5.4 LTS che equipaggia Linux Mint 20.3. L'edizione Edge, questa ISO, viene offerta con il kernel 5.13 preinstallato. Quindi significa che c'è maggior supporto al hardware più recente, quindi tutte quante le novità per i nuovi processori, i processori Under Lake serie S, il supporto a AMD FreeSync per HDMI, nuovi driver Intel, il supporto ai chipset RealTec RTL 8156 e 8153D e qualche altra cosina qua e là che può sempre tornare utile. Per chi è indirizzato a questa ISO, semplicemente per tutti quegli utenti che si trovano ad avere un computer recente più nuovo e non vogliono stare lì a fare magheggi nella fase iniziale per far partire Linux Mint e installare successivamente l'ultimo kernel, ma vogliono già qualcosa di bello e buono da far partire subito senza sbattimenti. Restando a parlare di distribuzione Linux, abbiamo avuto anche un nuovo rilascio, un nuovo aggiornamento di manutenzione per D-Pin Linux. C'è stato infatti il rilascio di D-Pin 20.4. D-Pin la conoscete, quella distribuzione cinese basata su Debian che offre un desktop environment totalmente sviluppato in casa, D-Pin desktop environment, che molti criticano, dicono che ci sono problemi per quanto riguarda la privacy, cose che comunque sono state smentite ad andare a leggere i tanti articoli che ho pubblicato su Marcosbox al riguardo. A mio avviso comunque è una distribuzione che merita attenzione sia per l'attenzione che ci mette il team di sviluppo nel mantenere questa listo, ma anche nell'approccio che stanno utilizzando per costruire un desktop environment alternativo e ben fatto che strizza gli occhi ai sistemi operativi proprietari. se lo vedi è desktop environment, non in realtà sono i sistemi operativi proprietari, visto che Windows non è una distribuzione Linux ancora. Quali sono le novità di questa versione di D-Pin 20.4? Beh, abbiamo un miglioramento del programma di installazione, abbiamo l'aggiornamento del browser web, che è l'ultima versione di Chromium, nella base di Chromium, con alcune aggiunte tipo gruppi di schede, collezioni e altre cosine quali da. Un nuovo plugin di monitoraggio che viene aggiunto al System Monitor, alcuni miglioramenti nella funzionalità di ricerca e nel file manager. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questa distribuzione, se apprezzate questa distro, ma soprattutto se apprezzate D-Pin, Desktop Environment, se lo utilizzate magari su altri distro come, che ne so, Manjaro oppure Arch Linux. Parliamo adesso di Desktop Environment che verranno, e lo facciamo parlando di PopOS. Sapete bene che cosa ha fatto il team, che cosa ha annunciato il team di System76, la società che sta dietro allo sviluppo di PopOS. Ha annunciato l'intenzione di sviluppare un desktop environment scritto in Rust e pensato per equipaggiare PopOS. Utilizzerà tecnologie già esistenti, quindi utilizzerà Rust e GTK, ma cercherà di sgregarsi dal carrozione di Gnome, cercando di fornire un'esperienza utente più completa, in linea con Cosmic, che è l'insieme di estensioni che sono state pensate sviluppate nel System76 per PopOS, ma avrà anche alcune caratteristiche interessanti come una maggiore leggerezza, miglioramenti per quanto riguarda le prestazioni generali, miglioramenti anche per quanto riguarda l'interfaccia grafica e quant'altro. A mostrarci alcuni screenshot di quello che sarà questo nuovo desktop environment sviluppato dal team di System76 per PopOS, ci ha pensato lo sviluppatore Eduardo Flores che sul suo blog personale ha pubblicato questa serie di screenshot che mostra le prime componenti, come la schermata delle impostazioni, la gestione dei menu all'interno delle applicazioni, la ricerca, la doc e quant'altro. Andate a dare uno sguardo sull'articolo pubblicato su Marcosbox, Luca poi ha postato un ulteriore link ad altri screenshot che sono emersi in queste ultime ore, e fatemi sapere che cosa ne pensate. Non so voi, ma a me questo figone che stanno cercando di prendere mi piace. Speriamo che si arrivi a qualcosa di concreto nei brevi tempi, anche se da quel che è stato annunciato dalle prime descrizioni si parla di 2023 per vedere finalmente qualcosa di concreto e comprito. Dopo aver parlato dei desktop environment futuri, come non parlare dei desktop environment, quelli storici, quelli belli, quelli che ci accompagnano da anni nel mondo Linux, e come non parlare di KDE Plasma? Negli scorse settimane c'è stato il rilascio della versione beta di KDE Plasma 5.24, quello che fosse il desktop environment più completo, più bello, anche più prestante, perché nel corso degli anni gli sviluppatori di KDE, anzi, ma meglio la community di KDE, ha continuato a migliorare e perfezionare Plasma, lo sta rendendo sempre più pulito graficamente, sempre più ricco di funzionalità, ma anche sempre più prestante, perché lo stanno rifinendo i codici, quindi di fatto è diventato leggero al pari di XFC, ne parlavamo già diverso tempo fa sulle pagine del blog. Ma quali sono le novità di KDE Plasma 5.24, il cui rilascio in versione stabile, ricordo a tutti, arriverà agli inizi di febbraio. Bene, i principali miglioramenti riguardano il look visivo, perché il tema Breeze ha visto l'arrivo di diversi miglioramenti che rendono Plasma ancora più piacevole da usare. Le cartelle adesso, ad esempio, rispecchiano il colore di accento da noi scelto, quello selezionato nello schema dei colori, è stato modificato gli effetti di messa a fuoco dei pulsanti, campi di testo e quant'altro, in modo tale da rendere più facilmente distinguibili al corpo d'occhio con ingrandimenti e quant'altro all'interno di questa selezione di pulsanti, con box, spin box e quant'altro. Ci sono stati fatti dei miglioramenti, qualche miglioramenti qualità, insomma, anche ai temi Breeze, per quanto riguarda i Breeze Light e i Breeze Dark. La combinazione di colori Breeze ad alto contrasto è stata eliminata, ad esempio, perché di fatto si è reso un doppione del tema Breeze Dark, quindi meno codice da mantenere, visto che c'è già questo tema Dark che rispecchia visivamente, consente di avere un maggiore contrasto, quindi anche per le persone che hanno deficit visivi indicato. Sono stati fatti dei miglioramenti per le notifiche. Adesso le notifiche critiche hanno una piccola striscia arancione su un lato per rendere più distinguibili sia dallo sfondo che dalle altre notifiche. E sono state fatte poi anche altre migliorie qualità, sempre per migliorare la leggibilità delle notifiche. Il gestore di password adesso ha un design modernizzato. L'indicatore di batteria e di luminosità hanno un'interfaccia migliore. Ci sono miglioramenti per kick-off, ci sono miglioramenti per il widget meteo, le aree scorrevole della barra delle applicazioni utilizzano uno stile più coerente, miglioramenti, miglioramenti del task manager, miglioramenti nella gestione del pannello, nelle anteprime per esempio della selezione degli sfondi. Insomma, ci sono tantissime modifiche qua là che potete leggere tutte quante nell'articolo pubblicato su Marcosbox. E speriamo che continuino così i ragazzi di KDE a sfornare miglioramenti su miglioramenti ad ogni rilascio, perché KDE è diventato bellissimo, è diventato anche bello da seguire. Se siete appassionati, ad ogni rilascio sarete interessati, vediamo che cosa c'è di nuovo, hanno veramente implementato qualcosa di bello, non come quelli di Gnome che stanno a fare sempre le solite Gnomate. Che brutto neologismo senza senso che ho creato Gnomate. Che cavolo volevo dire con Gnomate, no cosa vabbè, dei riri di un vecchio pinguino che registra la sera la puntata del podcast e complice anche la digestione, inizia a sparare castronerie, vabbè. Passiamo adesso alla parte dedicata ai rilasci dei nuove applicazioni. Parliamo di due software che si sono aggiornati nelle scorse settimane. Il primo è Wine. Wine è stata rilasciata alla versione 7.0, e va ad aggiungere alcune funzionalità interessanti che molti aspettavano. La prima riguarda un miglior supporto per i temi, con un tema in bundle che dona un look più moderno. Il tema di Wine, quello di default, quello vecchio, faceva abbastanza schifo, era molto antico, diciamo così. Lo stack HD e il supporto joystick sono stati migliorati, c'è stata aggiunta la nuova architettura Wow 64, il supporto OpenCL è stato aggiornato, abbiamo dei miglioramenti per l'esecuzione su Apple Slicon M1, inclusa l'esecuzione di binari x86-64 sotto resetta 2, miglioramenti dei driver plug and play, e stato poi aggiunto il supporto per nuove schede grafiche. Ovviamente, come sempre, vi rimando sulle pagine di Marcosbox per andare a leggere il changelog comprito. L'altro software di cui voglio parlare, che è tornato ad aggiornarsi, è OnlyOffice Desktop Editors, che ha raggiunto la versione 7.0. Con questo rilascio, l'applicazione desktop raggiunge la versione online per funzionalità, ora la maggior parte, praticamente, delle funzionalità e dei miglioramenti presenti su OnlyOffice Docs 7.0, la versione cloud, sono arrivati anche sulla versione desktop. Quali sono le novità principali? Bene, la possibilità di creare e compilare dei moduli, la possibilità di aggiungere nuovi account che è possibile collegare, come K-Drive e Referai. Ci sono state poi aggiunte delle funzionalità avanzate di modifica, che prima non erano disponibili all'interno della versione desktop, quindi adesso li ritroviamo anche sulla versione desktop. la possibilità, poi, finalmente, di avviare qualsiasi, di avviare l'applicazione, o qualsiasi applicazione, come come ti posso dire? Mi sto incartocciando con le parole. Praticamente, non so se vi ricordavate, nella vecchia versione di OnlyOffice, se voi avviate, che ne so, document e spreadsheet, li avevate tutti quanti in un'unica finestra, avevate i tab da sopra e quant'altro. Adesso c'è la possibilità di avviare le singole applicazioni, e anche singole istanze che sono di document, in finestre singole, per ragione di tutti quelli che preferiscono avere le cose separate, magari disordine, ma separate, perché, ricordi che oggi, il fatto di avere i tab sopra, con le varie schede, in effetti è anche più ordinato, però. Io sono malato e mi piace avere le cose un po' disordinate qua e là, perché nella mente mia sono ordinate. Comunque, ci sono poi gli oramenti per quanto riguarda lo scaling, l'app desktop adesso offre nuove opzioni di scaling dell'interfaccia del 125% e del 175%, e qualche altra modifica qua e là che rendono più completa questa suite. Ovviamente, anche in questo caso, vi rimando sulle pagine di Marcosbox, per maggiori informazioni, il link per scaricarla e il changelog con tanto di screenshot. Passiamo adesso a commentare una notizia che arriva dagli Stati Uniti, che riguarda la sicurezza informatica. Google ha chiesto pubblicamente al governo statunitense di rendere il software open source più sicuro. L'ha fatto in occasione del summit che c'è stato riguardante la sicurezza del software open source che si è svolto lo scorso 13 gennaio presso la Casa Bianca. A questo incontro hanno partecipato tantissimi big nel mondo dell'informatica e ha partecipato anche Google, che in quell'occasione, dicevo, ha pubblicamente chiesto al governo statunitense un maggiore coinvolgimento nella identificazione e nella protezione dei progetti open source. L'antefatto qual è? Vi ricorderete qualche mesetto fa c'è stata la scoperta della vulnerabilità di Log4G, un software open source che ha coinvolto praticamente tantissimi software che ingobbavano Log4G e quindi ha messo a repentaglio la sicurezza di tantissimi progetti, da progetti aziendali, ma anche progetti governativi che utilizzano questa soluzione. E questa vulnerabilità ha portato all'attenzione globale la necessità di porre maggiore attenzione e impegno per salvaguardare gli strumenti open source. L'open source, lo sapete, facilita l'implementazione collaborativa, lo sviluppo di nuove tecnologie per aiutare a risolvere i problemi condivisi. Ed ecco perché molti aspetti delle infrastrutture critiche e dei sistemi di sicurezza nazionale lo incorporano. Nonostante però il largo uso che si fa del software open source, non c'è mai da nessuna parte uno stanziamento ufficiale, di risorse. Ci sono anche pochi requisiti formali o standard per mantenere la sicurezza di quel codice critico. La maggior parte del lavoro per mantenere e migliorare la sicurezza dell'open source, compresa anche la correzione delle vulnerabilità conosciute, è spesso fatta ad hoc su base volontaria. Quindi capirete bene che si pone il problema di come fare per riuscire a evitare disastri come quelli che sono andati a seguito di GOG4G. perché è una vulnerabilità a zero day che coinvolge un progetto open source che non viene scoperta in tempo può causare danni su vasta scala. Per troppo tempo la comunità del software ha trovato conforto nell'assunto di tanti occhi su un problema. Molti occhi significa la possibilità che più persone che guardano il codice c'è la possibilità che gli eventuali bug e problemi vengano alla luce prima e quindi è possibile risolverli. Però in realtà mentre alcuni progetti hanno tantissimi occhi addosso e quindi ci sono tanti programmatori che contribuiscono a trovare bug e quant'altro altri invece ne hanno pochi o nessuno come nel caso di GOG4G che veniva dato per scontato e poi si è scoperta questa vulnerabilità. Google ha lavorato per aumentare la consapevolezza dello stato della sicurezza dell'open source investendo milioni nello sviluppo di framework e nuovi strumenti di protezione e ha anche contribuito con risorse finanziarie e gruppi di programmatori che lavorano sulla sicurezza di tali progetti open source fondamentali come ad esempio i programmatori che lavorano per quanto riguarda il miglioramento del kernel Linux. Google ha posto questo problema di cercare da parte dei governi di stanziare dei fondi per individuare quei progetti open source che vengono utilizzati in infrastrutture e critiche e favorire il negozio di gruppo favorire la correzione di problemi e quant'altro. Google durante la riunione presso la Casa Bianca ha condiviso una serie di proposte su come si possano creare dei nuovi modelli per la manutenzione e la protezione del software open source principalmente sono tre le chiavi di questo piano di Google identificare i progetti critici che potrebbero rappresentare un rischio sistemico in modo tale da poter anticipare il livello di sicurezza richiesto e fornire anche risorse adeguate per la correzione e l'individuazione dei problemi stabilire delle basi di sicurezza manutenzione e test per garantire che le infrastrutture nazionali e altri sistemi importanti possono fare affidamento su progetti open source e aumentare il sostegno pubblico e privato perché molte aziende e organizzazioni leader non riconoscono non danno adeguato supporto economico per migliorare i codici non danno adeguato supporto in termini di uomini magari si limitano soltanto a seccheggiare alcuni pezzi di codice alcune soluzioni open source ma non contribuiscono attivamente a migliorare e quindi in questo caso c'è anche la necessità di aumentare il sostegno sia pubblico che privato di questa azienda per raggiungere rischi perché ruota tutto attorno a quello speriamo speriamo che queste proposte questa serie di proposte fatte da google possano essere prese in considerazione sia dal governo saluto ma anche dai governi europei per poter contribuire tutti quanti a migliorare la sicurezza del software open source e migliorare la vita informatica di noi tutti ultimi due argomenti prima di chiudere questa puntata del podcast la prima è un editoriale che è stato pubblicato da luca a proposito grazie luca per il supporto che stai dando al blog con gli articoli in questi ultimi mesi stai facendo davvero tanti articoli davvero grazie di cuore per il supporto per i contributi che stai dando i spunti di riflessione perché vedo sempre che gli articoli di luca hanno un grande riscontro da parte di voi lettori sia sul blog che su altre piattaforme luca ha pubblicato un editoriale pronunciatela alla share spiegare in maniera questa frase update or not update nel quale cerca di rispondere alla fatidica domanda come gestire gli aggiornamenti andatevi a leggere e fatemi sapere se siete se voi avete una soluzione se voi avete una il vostro approccio che giudicate giusto e gli altri automaticamente tutti sbagliati perché siete cattivi dovete fare quello che dico io o se anche voi siete dello stesso parere di luca che non crede che ci sia un approccio giusto o sbagliato andate a leggere l'articolo e andate a commentare infine parliamo di una bellissima notizia riguardante un evento dedicato a linux in particolar modo alle applicazioni su linux che si terrà in italia il prossimo 29-30 aprile 2022 a rovereto si svolgerà l'edizione 2022 del linux app summit che cos'è un summit nel quale riunisce la comunità linux globale per imparare collaborare aiutare a far crescere tutto l'ecosistema delle applicazioni linux attraverso discorsi panel sessioni di domande risposte nelle quali i partecipanti possono condividere le proprie idee e creare connessioni per creare un ecosistema di applicazioni comuni questo evento questa edizione 2022 che si svolgerà a rovereto sarà un evento ibrido che combinerà sia sessioni in globo che sessioni remote in cui si talk panel e anche domande e risposte per maggiori informazioni vi invito a iscrivervi all'account twitter che ho linkato sulle pagine del blog o in alternativa a seguire il sito internet ufficiale dedicato a questa iniziativa a breve verrà avviata anche la fase di call for papers o praticamente la fase di raccolta dei partecipanti per gli speaker per le sessioni e poco dopo partiranno anche le iscrizioni complimenti a rovereto complimenti per essere riusciti a organizzare in Italia questo evento che negli scorsi anni si è svolto in diverse parti del mondo e con quest'ultimo argomento si conclude qui questa 116 puntata del podcast di marcosbox come sempre vi invito a iscrivervi sui canali social di marcosbox a seguirmi sulla pagina facebook a seguirmi sulla pagina twitter sul canale youtube ma soprattutto a seguirmi su telegram dove sono presenti una pagina dedicata alle notizie nel mondo di marcosbox una pagina dedicata alla community di marcosbox dove potete scambiare opinioni parlare commentare degli articoli che posto su marcosbox ma chiedere aiuto non si parla soltanto di linux c'è il cazzeggio libero e se volete supportare il blog e presente anche una pagina con le offerte un canale telegram con le offerte amazon quindi sapete bene come funziona il link di affiliazione di amazon che trovate comunque anche sulle pagine di marcosbox se utilizzate il mio link referral di amazon e acquistate qualche prodotto su amazon amazon mi riconosce una piccola percentuale che poi verrà utilizzata per per supportare il blog per miglioramenti alle attrezzature e quant'altro quindi se volete supportarmi potete farlo a costo zero con amazon anche se amazon è l'impero del mare lo so tutti quanti a dire queste cose in certi momenti della giornata lo penso anch'io soprattutto quando non riesci a trovare la cosa giusta al momento giusto e poi trovi il prezzo che non è buono e poi trovi i pacchi che ti arrivano dopo anni sapete questo mi piace una nota di cuore ho ordinato un pacco su amazon per un regalo che doveva essere fatto a mio nipote l'ho ordinato nei primissimi giorni di dicembre e è arrivato qualche giorno fa e vi lascio immaginare ha fatto il giro della cina ha fatto il giro della francia non so perché è andato in francia a fare il sigilo in francia è arrivato poi in italia e ha pensato bene di starsi 10 giorni in giro per l'italia e delle volte le consegne di amazon sono velocissime a volte a volte sono rapide a volte si perdono nei meandri delle spedizioniere di quella vabbè sarà la mia solita sfiga lunga vita e prosperità a tutti quanti alla prossima puntata ciao ciao